Finalmente sì, oggi sicuramente è stato un incontro importante, ci lascia veramente soddisfatti perché da parte dell'azienda c'è stata un'apertura e hanno aperto il tavolo delle trattative al fine di stabilire definitivamente quante sono le persone che hanno effettivamente diritto al passaggio con la nuova società. L'incontro è stato positivo, coinciderà il 10 aprile una volta raccolti tutti i dati dalle ditte uscenti, quindi faremo questa verifica congiunta e sicuramente riusciremo a trovare un accordo almeno che vada nella direzione giusta con questa azienda per iniziare col piede giusto. Siamo rimasti favoremente impressionati dall'apertura dell'azienda cosa che ci spiace dirlo che l'unica volta non è successa con il Comune che fino a oggi si è sempre defilato e quindi questo ci lascia veramente soddisfatti. Quindi ci saranno le possibilità per quei dipendenti mancanti all'appello, si parla di una ventina di dipendenti di recuperare la situazione e di chiudere in modo positivo? Oggi avete già firmato un primo verbale. Il verbale che abbiamo sottoscritto è proprio in funzione di questo obiettivo, ovvero raccogliere i dati di quelli che hanno veramente il diritto al passaggio, l'azienda sarà disponibile a trattare e a parlare e quindi in quest'ottica ci aggiorneremo il 10 aprile.